Hai sempre desiderato imparare a creare app per iOS, ma non hai mai trovato il corso adatto alle tue esigenze? Nessuna paura, da oggi nasce Da Zero ad App, una rubrica di iPhone Go. Progetta la tua app in poche semplici lezioni. Ovunque tu sia. Beh, quasi. Io sono Sara Canducci, l'app developer più pazza del web. Insieme arriveremo da Zero ad App.